Siamo qui al Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare e oggi è una giornata importante perché abbiamo radunato le nostre farfalle, le ginnaste della ritmica insieme ai nostri ginnasti dell'artistica e abbiamo potuto ricevere la visita del Presidente del Gruppo Sportivo dell'Aeronautica, il Generale Baldacci unitamente al Presidente della Federazione Italiana, Gerardo Tecchi. Giornata importante perché abbiamo potuto far conoscere al Presidente le nostre potenzialità, le nostre capacità e soprattutto il supporto che quotidianamente l'Aeronautica Militare riserva a favore di questo movimento che riteniamo molto importante. Io mi trovo qui oggi in questa circostanza innanzitutto per avere il piacere di incontrarvi e anche per condividere col Presidente della Federazione un concetto che per noi è abbastanza chiaro e cioè quello dell'appartenenza. Voi appartenete alla Federazione, appartenete all'Aeronautica Militare e vorrei che però questo senso di appartenenza fosse parte integrante del vostro modo di affrontare ogni giorno. Quindi parliamoci, comunichiamo e soprattutto vogliamo alto. Sì, sono ormai diversi anni che è terminata l'attività agonistica, almeno per quanto riguarda parte di noi sosteniamo questo bell'assetto che ci ha dato l'opportunità di avere l'Aeronautica Militare. Un assetto che ci permette di continuare a fare quello che ci piace con passione e di portare in giro non solo la Federazione, la ginnastica ritmica ma anche il nome dell'Aeronautica Militare. Riusciremo a fare questo progetto anche con la Federazione, quindi potremmo fare esibizioni sia per l'Aeronautica che per la Federazione quindi promuovere allo stesso tempo il nostro sport e anche la Forza Armata che è l'Aeronautica Militare. Mi fa una certa impressione perché qua abbiamo della gente che ha dato N alla storia della ginnastica quindi questo mi fa assolutamente piacere. Io devo ringraziare Fornire perché all'inizio chi ha creduto più in questo progetto è stato proprio lui. E ringrazio voi per quello che avete dato alla Federazione e quello che darete ancora in vari ruoli alla Federazione. Io ho già parlato con Morandi, apriremo un progetto diverso anche per chi con la ginnastica non ha più tante cose da dire, nel senso ovviamente da atleta. Noi non vi abbandoniamo, vi siamo vicini, vogliamo esservi vicini come oggi e ieri sono stato vicino al vostro amico e collega Paolo Principi che si è operato, l'operazione è andata tutto molto bene. Ragazzi mi raccomando, forza, la vita è lunga, la vita è bella e poi vestire questo, vi stai visto, io mi sono messo la cravata, azzurro, tutto azzurro perché questo è un colore importante per l'Italia, il colore dell'Aeronautica Militare. Un'arma di riferimento per l'Italia e quindi voi dovete essere orgogliosi di appartenere all'Aeronautica Militare. È un piacere aver ritrovato qui le due veterane Elisa Santoni e Elisa Blanchi, a seguire Angelica Savrajuk, Marinella Falca, Andrea Stefanescu, Camilla Patriarca, Giulia Galtarossa e Camilla Bini, la sottoscritta. Oggi ci ritroviamo qui a Vigna di Valle, che è la nostra caserma del gruppo sportivo, tutti quanti la nazionale maschile con il maresciallo Alberto Fornera che ci segue e siamo qui per decidere un pochino le nostre sorti, dei più anzianotti e poi anche dei giovani, a parlare un pochino del futuro e delle porte che sicuramente ci aprirà questo bellissimo mondo dell'Aeronautica Militare che ci ha dato aiuto in tutti questi anni, a noi e alla federazione. Noi siamo qui presenti in campo, quindi vuol dire come tutti i militari timbrare la mattina il cartellino con il badge e niente, solo che magari per tutti gli altri militari c'è un lavoro d'ufficio, fanno magari delle guardie e invece il nostro ruolo è quello di allenarci e preparare esibizioni ed esercizi nuovi. Ci stiamo preparando per la nostra prima uscita, la prima esibizione che sarà ad Arese, al centro commerciale più grande d'Europa e sarà quindi sabato 25, domenica 26 e poi il 2 di aprile faremo una ripetizione del nostro galà. Siamo al museo storico di Vigna di Valle, il museo storico dell'Aeronautica Militare, sulle rive del lago di Bracciano. è un museo per certi versi unico, qui c'è la storia dell'aviazione militare del nostro paese. Abbiamo oltre 80 velivoli originali di tutte le epoche, dagli albori del volo fino agli aeroplani più moderni. È un posto che si presta bene per vedere qualcosa di storico, ma anche per passare una bella giornata in generale spensierati con le famiglie. Abbiamo un punto di ristoro, abbiamo oltre 80 velivoli originali di tutte le epoche e per la superficie espositiva che abbiamo, siamo quasi a 14.000 m2 per il numero di velivoli originali, siamo il quinto museo al mondo. Non c'è un biglietto d'ingresso, l'ingresso è gratuito. Quindi, che dire, venite e vi aspettiamo.